Il CDA dell'Istituto Zoo Profilattico dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale ha designato come presidente l'avvocato Alfonso Catone. Molisano, consigliere comunale a Venafro della provincia di Sernia e rappresentante della regione Molise, Catone sarà alla guida dell'IZS dopo anni di nomine abruzzesi. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'ENTE sono tre. C'è oggi Alfonso Catone come presidente, la rappresentante del Ministero della Salute Gaetana Ferri e il designato della regione Abruzzo Enzo Pietro Di Giulio, il veterinario rosetano che aveva fatto ricorso e vinto al TAR contro la nomina di Davide Calcedonio Di Giacinto. Immediato il commento polemico del consigliere regionale Sandro Mariani, che rivolge i più sentiti complimenti alla maggioranza di centrodestra che guida l'Abruzzo, che, scrive Mariani, dopo averci regalato un governatore romano, è riuscita a fare leggere dopo 30 anni anche un presidente molisano per il CDA dell'IZS Caporale. Evidentemente, conclude Mariani, in Abruzzo non c'era una figura all'altezza, un professionista, perché no, un veterinario, che potesse ricoprire un ruolo così importante in una realtà come l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, da sempre fiore all'occhiello per questa regione e autentico vanto a livello nazionale ed internazionale per il Teramano.